Musica Adesso apriamo la pagina della cultura, 50 artisti in campo per la tredicesima edizione di Logos, una rassegna internazionale di danza, arte circense, musica e teatro organizzata dall'Associazione Tersi Corea. Ce ne parla Cinzia Isola. Nonostante l'emergenza sanitaria, l'Associazione Tersi Corea ha scelto di non arrendersi al Covid e soprattutto di non rinunciare alla sua programmazione. La tredicesima edizione di Logos, rassegna di danza e interconnessioni, progetto di residenza artistica, si svolgeranno regolarmente, sebbene siano stati organizzati in uno spazio temporale che vedrà intrecciarsi le due manifestazioni. La residenza artistica, legia delle cose perdute, che al suo quartier generale a Sittimo San Pietro prenderà il via il 12 agosto, mentre il 23 agosto si apriranno ufficialmente le danze di Logos, un ponte verso l'Europa, la rassegna internazionale di danza, arte circense, musica, teatro e videoarte. Per la Sardegna, gli eventi riferiti alla rassegna, per sempre questioni di Covid, che normalmente si muoveva un po' in tutto l'Interland del Campidano, quest'anno abbiamo come base Cagliari sicuramente, Sassari, e poi abbiamo l'Interland che è costituito da Selargius, che normalmente ci appoggia con dei luoghi di memoria, come la chiesa di San Giuliano. e direi che basta, quest'anno abbiamo dovuto restringere un po' il cerchio, perché ci sono paesini che non riprendono l'attività, non accolgono festival, chiudono i luoghi pubblici, quindi non ci possono ospitare. Quest'anno, quindi, prevediamo in questo percorso, in questo calendario, abbiamo circa 25 titoli, le serate saranno alcune cumulative, altre no, cioè ospiteranno più di un progetto, e quindi saranno circa 30 progetti che raccolgono e tengono insieme una sessantina di artisti, tra coreografi e danzatori, interpreti, registi, eccetera, eccetera, che provengono dall'Italia, provengono dalla Francia, provengono dalla Spagna, provengono dalla Germania, comunque, insomma, da tutto il mondo verso il Mediterraneo, che è la nostra garanzia. Vorrei sottolineare che noi, per sostenere questo progetto, che ha una sua valenza per la Sardegna, abbiamo fatto una campagna crowdfunding, che ci piacerebbe, quello potrebbe essere per noi un segnale di aiuto. Abbiamo un visione di aiuto questa volta, lo facciamo con molto coraggio, io non mi vergogno di chiedere questo aiuto.